La squadra sta andando bene perché noi dopo una rincorsa turbolenta, siamo adesso in testa della classifica, abbiamo rincorso per tutto il girone di andata a causa di una partenza non proprio al top, abbiamo rincorso l'acqua e sapone, l'abbiamo scavalcato e quindi adesso noi siamo primi a tre partite dal termine del girone di ritorno. E poi adesso inizia la parte più bella, diciamo quello che le finale di Coppa Italia che si svolgeranno a Rimini al Palazzetto dello Sport, lo Stadium 105, i playoff che sono il momento più affascinante e più emozionante di tutta la stagione. E' un peccato, è un peccato perché comunque purtroppo questa stagione è ormai andata così senza pubblico, con i palazzetti vuoti, l'assenza del pubblico, io l'ho sempre detto, i nostri tifosi sono il sesto uomo in campo, è veramente la spinta in più che ci dà quella carica, che dà la carica ai nostri giocatori per giocare al massimo e per vincere le partite. Però purtroppo è andata così, ci auguriamo la speranza che si possa un pochino allentare questa situazione e una parte di persone, una parte di pubblico possa iniziare a entrare nel Palazzo dello Sport, chiaramente con tutto il distanziamento possibile, con tutte le normative vigenti. Come è stato anche un po' dall'interno affrontare una stagione dove a volte non sai se giocherai quella partita, giocatori che potrebbero essere positivi, quindi anche da un punto di vista non solo fisico ma anche mentale penso molto stressante, oltre comunque a far diventare magari la stagione un po' più complicata, comunque abbiamo visto tante pareti da recuperare, una classifica che a volte non era mai quella veritiera. Molto difficile, hai detto bene tu, è stato molto complicato e psicologicamente molto stressante perché tu considera che noi sempre per normative FIGC e quindi di rimbalzo sulla divisione calcia 5 dobbiamo fare i tamponi una volta alla settimana, 48 ore prima della partita. Quindi tamponi al di là del disagio di fare i tamponi noi, i nostri giocatori e quindi un lasso di tempo dedicato per fare proprio fisicamente il tampone, poi l'attesa dobbiamo aspettare, quindi arriva l'esito del tampone, quindi non sappiamo se quando abbiamo una trasferta per dire siamo andati da Avellino, fino a quando non avevamo l'esito dei tamponi non sapevamo se potevamo partire, prenotare l'albergo. E quindi ecco, tutte queste cose diciamo rallentano, ma più che rallentare ti mettono anche una carica di tensione psicologico, uno stress psicologico importante. Noi ci siamo adattati in maniera splendida, poi noi comunque siamo molto ben organizzati come società e qui devo ringraziare il nostro direttore sportivo Marco Troilo che ha fatto un ottimo lavoro, tutti i nostri dirigenti da Giovanni Baldelli, Alberto Pieri, Moreno Bordoni, Lello Ortolani che comunque lavorano in maniera splendida, mia moglie, Simona che comunque lavorano, seguono in maniera eccellente, tutto l'iter burocratico e quindi quest'anno si è aggiunto anche un tassello in più, l'iter sanitario. L'abbiamo fatto, ci siamo riusciti e comunque è stato un dispegno di energia grosso.